buongiorno amici buongiorno amiche bentornati in un nuovo video oggi ho il collaboratore che l'amore mio mio figlio tiziano e oggi non vi recensiamo né una né due né tre ma ben dieci cose per i per i 350 iscritti esatto allora vi faccio vedere tutti i trucchi che mi regala tiziano mio anzi ve li fa vedere lui questi sono delle palette ce ne sono che vi avrei fatto il video sulle palette qua ce ne sono tre di bottega verde che sono gli ultimi che mi ha regalato tiziano non sono della collezione ultima primaverile però sono bellissime lo stesso anche altre palette pagate pensate 7 euro soltanto l'una vi faremo vedere i colori però non li switchiamo perché sono ci ci impiaceggiamo tutte le mani e adesso iniziamo da questo questo allora questo me l'ha regalato sempre lui è un balmo di di kiko che è quello che ho addosso come vedete molto delicato e questo qui della kiko guardate si apre in questa maniera e si applica così allora il colore molto tenue e questo vi dico che anche molto idratante lo potete usare sia come ombretto sia scusa sui come ombretto sia come tre tanti sia come colore perché leggermente qualora lo mettiamo qui a te non ci vedono sai fatti vedere poi poi dire questo un'altra cosa questa acqua è molto bella perché piccolina da scabili e con dei colori ed è questa qui la confezione di fuori guardate ecco non so se vede con la luce eccola qui ecco questo che marchio è amore e la scritta è make up obsession e c'è due palette palette sono 38 grammi ed ecco i bei colori e fornito anche di uno specchio mettila così così le nostre amiche lo vedono allora come vedete amiche sono tutti questi colori qui e sono colori che danno sull'azzurro e sul verdino come vedete sono molto belli molto adatti alla primavera vediamo se mette ancora a fuoco di più la telecamera si devi fare guardate vediamo fare così ecco qui ecco qui ora abbiamo visto che non abbiamo vista e questo qui abbiamo detto che si chiama keep it fresh va bene di make up obsession quindi ci sono anche altri colori questo sullo sui verdini e sugli azzurrini passiamo sempre questa è usate ma è la telecamera un danno lo dovevamo fare è colpa mia giustamente un danno lo dovevamo fare la telecamera è cascata vediamo se così non ci vedete più ma perché quando le mamme parla che i figli non sentono avevo detto che così la telecamera sarebbe caduta e lascia stare così scusate hai visto ci voleva tanto scusate amiche scusate amici allora forza poi poi abbiamo un'altra bellissima palette io purtroppo con una mano devo tenere il telefono e con l'altra mio figlio fa le recensioni allora aspetta ragazzi no no così esce malissimo tiziano no amore va bene no amore di mamma non sono un intenditore dai ok abbiamo fatto su poi abbiamo questa volta che ho regalato alla mamma e della revolution come potete vedere fai vedere di qua che è più bella e vabbè oggi non dobbiamo registrare scusate scusate un attimo questo è il bello della diretta di quando i figli non sentono quando le mamme dicono amore la telecamera così sta male non sta bene sta bene la telecamera ok ok ce la possiamo fare allora non toccare più niente ho messo pure il cane allora scusa tiziano fai vedere alle nostre amiche allora questa qui è della linea di cioccolato cioccolato bianco di make up revolution questa costa poco euro e 6 e 99 6 euro e 99 questi sono i colori guardate che carina io ho già iniziato a usarne qualcuno ed è bellissima c'è anche lo specchio va bene questa è questa che mi ha regalato tiziano mio andiamo avanti poi c'è questa con un'altra recensione bellissima questa qui è una palette sempre di make up revolution come potete vedere già si intuisce che sui toni dell'azzurro e questa qui è una palette sui colori diciamo che prevale il verdino e l'azzurro e d'orario di specchio e questi qui sono i colori sono molto belli alcuni accesi luminosi e altri un po più spensi sono molto scriventi ragazze di ziano mio giustamente non gli usa allora adesso passiamo a questa paletta qui che è sempre di tipo questa è scusate scusa amore mio allora questa è della collezione non attuale si chiama lost in amalfi e l'abbiamo pagata soltanto 7 euro questa è una cosa importante se andate in questi giorni la trovate fai vedere allora questo qui è già un bel packaging dall'esterno diciamo e con le immagini in rilevo poi apriamo la scatolina da questo diciamo in garbuglio poi di fuori questo è il packaging sempre sul diciamo sul dorato argento eccolo qui e anche essa è dolore di specchio falla vedere bene e dolore di specchio e i colori sono questi qui molto spenti però anche brillantina di luminosi sui ruoli del marrone bianco nero grigio argento e quali qui allora quella ancora non ho iniziato a usarla però giustamente è una bella palettina anche quello è stato un regalo di tiziano mio poi abbiamo questa qui che è di essence ed è e si chiama out in the wheel ed ecco qui il packaging è bellissimo e diciamo che trae una natura è sempre e sempre rilievo anche se durare di specchio come potrei vedere faccio vedere un secondo perché sennò e la mamma non ho ancora iniziato a usarla infatti c'è ancora come potete vedere il coso e la plastica e i colori sono sul diciamo sul verdino sono neutri beige verdino grigio argento eccoli qui anche il cane femmina è interessata dai andiamo a vedere lei si chiama mendi ed è una cagnolina pettegola poi abbiamo questo questa paletta è molto bella col del packaging di catrice e diciamo salari si chi sa vai si che si chiama ed è nata anch'essa di specchio sono tutti i colori cristallo si sono prevalentemente colori diciamo anche neutri però anche sul viola e sul blu come potete vedere poi abbiamo questa paletta qui di due collezioni della kiko milano sempre essa in verde con i rilievi con un packaging molto bello questa si chiama amore holiday si chiama holiday james non è attualissima l'abbiamo detto questa anche il prezzo di 7 euro ragazzi come potete vedere guardate come la palette come si presenta all'esterno diciamo con gli esagoni forme geometriche io riesco a capirla ecco questa qui è molto bella e anche lei risiede di uno specchio e questi sono i colori che vanno sempre sul beige verdino questi qua sono colori più neutri anche c'è il grigio sì c'è il grigio c'è il rosso c'è il nero c'è il beige c'è il giallino anche questo regalo di tiziano va bene e di papà mettiamo a posto sei felici tu che stai facendo? dai continuo amore le nostre amiche vogliono vedere le trusse dai allora spendi due parole in più per questa soprattutto per lo scatolo che è un floreale non è della collezione primavera attuale credo che sia dell'anno scorso però ragazze per 7 euro è bella sia la confezione sia i colori interna e viene sempre da chi con un packaging e diciamo a striatura e fra le reali si chiama sherming escape maxi is loud palette adesso aprila fai vedere quanto è bella anche la scatola guardate che bella ragazze questa qui è la scatola con delle rose in rilievo molto carine sembra una pochette si sempre con il segno qui picco siamo un po scomodi ma siamo felici lo stesso c'è anche mendimia oddio mi sono perso la pagnolina più dolce del mondo ok allora ragazzi guardate questo qui si apre da qua io sono in perito per aprirlo sono in perito c'è lo specchio che è anche questo molto grande e questi qui sono i colori sono molto neutri vanno dal bordeaux al roseo ma sono anche bianchi beige grigi argento sono dei colori sono i colori della primavera anche se non ripeto non è la palette che c'è adesso in commercio in commercio però è anche essa molto bella adesso ragazzi amore metti la qui la palettina amici spettatori da casa l'ultima è bellissima paletta è questa qui molto bella della revolution si chiama forever flowways come potete vedere qui ci sono i colori ma ve li farò vedere meglio allora c'è anche già c'è ancora la plastica che si toglie da qui no amore no la devi sfilare la devi sfilare non riesco a sfilare allora ragazzi c'è il coso qui di scotch e bisogna aprirla e poi la sfilate via ecco qui il packaging con la scritta revolution in rilievo è marmorezzata guardate quanto è bella come potete vedere da dietro se non sbaglio ve l'ho fatta anche già vedere se non gridi non ti sei si apre da qui c'è uno specchio bellissimo enorme come potete vedere e poi ci sono anche dei bellissimi colori abbiamo finito di recensirvi le palette saluta le nostre amiche bye bye anzi posso fare una cosa si si vi voglio recensire una cosa l'altra cosa vi deve recensire un'altra cosa per un attimo qui abbiamo tutte quante le palette si tutte notizie no no non tutte un'altra un'altra io voglio recensirvi questa palette che è stata la prima in assoluto che le ho regalato quando avevo sei anni amore mio mi ho regalato quella le ho regalato questa qui fai vedere le stelline è della revolution cadono così le stelline si può mescolare è stata la prima truss che mi ha regalato l'amore mio allora c'è anche qui lo specchio e questi qua sono i colori ci sono due più violi poi ci sono i marroni i neri poi c'è anche un bianco che non si sa mai può sempre servire vabbè il bianco è quello che si mette serve a dare luminosità adesso amore salutiamo le vostre amiche non ancora finito no 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 finito abitante si amore però ma due minuti postare il video allora io voglio recensire questa palette quella al cioccolato prendi si vi recensisco solamente queste palette e poi basta io c'ho il cane sopra che pesa 20 kg è più bella allora vi faccio la birra eccola qua la mia Mandy non è cattiveria ma ha il suo peso la gamba mi si è un po' stancata questa è qui della Naked no Urban Decay Urban Decay vabbè raga io la voglio l'inglese questa è stata comprata da papà da papà e quando l'ha comprata papà? è due anni fa da dove? da Sephora Sephora quella che trovate da Sephora ecco alla modica cifra di 53 euro quindi eccola qui questi sono i colori purtroppo la mamma così come andando a perdere il pennello allora come i colori ci sono i colori abbastanza neutri come beige nero poi ci sono i marroncini c'è anche il bianco poi la nostra adesso puoi vedere l'ultima per favore quella la conoscono già eh scusate ragazzi puoi vedere l'ultima io purtroppo non seguo molto i video soprattutto quelli di mamma segui video di calcio mio figlio sì allora ragazzi quella non ho iniziato ancora a usarla tra l'altro questa il packaging è questo qua è sempre di Revolution I Heart Chocolate I Love Makeup si chiama? I Heart Chocolate è dosata di pennello e profuma di cioccolato quindi tutti gli ombretti fammi adorare non potete capire anche l'amendi vuole adorare l'amendi è odorato sa di cioccolato e questi sono i colori che bei colori soprattutto questo qui che è già rispecchio ovviamente soprattutto questo colore qui che è molto brillantinato luminoso e c'ha due anche il pennello ecco qui si è uno dei colori amore metti a posto il pennello amore ecco qui il nostro pennellino il pennellino è fatto in spugna anche questa ha un prezzo di sotto i 10 euro adesso adesso noi vi salutiamo e conserviamo allora anche Mendy vi vuole allora ti ti inizio a salutare tu poi conservo io ma ciao ad un prossimo video dai come dici mettete like mettete like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video e commentate se volete condividere il video con i vostri amici e amiche allora io invece vi saluto insieme alla bambina Mendy vi sposto un attimo la telecamera sperando di non fare danno fermo Tiziano allora questa è la mia cagnolina che è l'amore mio ciao Mendy ciao da Mendy cosa sarebbe questa famiglia senza l'amore che cionisce noi amici vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata ciao saluta ciao 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 ciao